Ci sono state le donne, e le persone sono state legate perché si sono state legate le persone non hanno cambiato il mio mare il mio mare era una cosa e si fa per me e me si sa l'esplosione e mi si sa che sia in me e mi si sa che sia una cosa è un'altra cosa